grande effetto eccoci qua nella cucina del grigio il grigio chef sono io come ingredienti semplici grande effetto oggi tortini con cuore di cioccolato cosa serve due uova 80 grammi di zucchero 30 grammi di farina bianca 100 grammi di burro 100 grammi di cioccolato fondente tortini con cuore di cioccolato il suo mi sa che è veramente di cioccolato perfetto cosa dobbiamo fare subito sciogliere il burro e il cioccolato fondente secondo me qualcosa manca va bene lo sciogliamo chiaramente a bagnomaria rompiamo l'uovo zucchero grazie sbattiamo un po lei ne ha mangiate però di uova con zucchero sbattuto con zucchero qui andiamo a vedere se si è sciolto tutto direi proprio di sì mi setaccia la farina grazie l'importante è il gesto no 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 basta fermi un attimo no lo so che ce n'è ancora aspetti a finire adesso qui attendiamo che il burro e il cioccolato diventino un po più freddi perché altrimenti se siamo subito bollenti cosa succede cuoce tutto e siamo fregati benissimo sa che mentre aspettiamo che si raffreddi un attimo possiamo farlo una cosa insieme si unga il dito con il burro no cosa ha capito ma mi faccia il favore dobbiamo andare a imburrare ai pirottini sì vabbè benissimo può rientrare tranquillo posto tutto sì sì benissimo qui ci siamo siamo cioccolato nel nostro composto se ne lascio la padella succede un disastro adesso vi fa vedere come pulire la padella ecco qua perfetto e passiamo il composto nei pirottini ecco qua qui la spatola la spatola è meglio di no usiamo un cucchiaio un cucchiaio va benissimo perfetto bene che facciamo a questo punto va lei in forno vado io no due per uno vado insieme va bene dieci minuti attenzione non di più stiamo attentissimi alla cottura altrimenti diventa tutto solido il cuore se ne va ok a 200 gradi prenda va eccoci qua nella cucina del grigio il grigio chef sono io com'è veloce perché è un po bello bene guarda che scotta eh eccolo qua guarda che spettacolo taglionetto apriamolo con l'eccollo qua benissimo cotto speriamo grazie a voi Grazie a tutti.